Lo sappiamo, è un problema che ci affisce da tanti anni, è che nella città di Casoia ha facito un po' più un anno, non è stato mai realizzato niente per il soffare di Casoia, non abbiamo formato questo momento di lotta dove combattere queste angherie che si fanno da tanti anni in Casoia. Le vecchie classi di ricerche politiche ci hanno fatto sempre delle promesse, delle promesse e delle promesse, ma ci hanno fatto diventare gli immaginati della società e questo non va bene, non va bene perché oltre a immaginare noi hanno immaginato anche il futuro dei nostri figli e i nostri figli non devono essere segundi a nessuno e nessuno si può permettere. Noi diciamo basta, basta perché non ce la facciamo più, vogliamo combattere queste angherie dei politici, negli ultimi tempi questi politici cosa hanno fatto? Hanno fatto in modo che i disoccupati sono stati eliminati proprio dal circuito dei diritti dei lavoratori. In cerco dal nostro diritto della Costituzione ci hanno buttato fuori. Noi pensiamo, non che pensiamo, vogliamo, anzi lo gridiamo con forza, lo pretendiamo che si deve fare qualcosa per noi. Tutti altri diritti, ora state in campagna elettorale, si sa, parecchie persone fanno delle promesse, ma le promesse non le dovete mandare, specialmente i consiglieri comunali e soprattutto gli assessori. Penso che un consigliere comunale, io penso che va a fare il consigliere comunale solo per ricimolare qualcosa perché non si perde, però attenzione non faccio tutto un buon fascio, non faccio tutto un buon fascio, ci sono delle persone che promettono, promettono e promettono e poi… Sì, sono d'accordo, però io non faccio distinzione di niente, i politici per me sono tutti uguali, tutti uguali, io non faccio distinzione di niente perché io da quando sono nato e fino a adesso anche i miei amici uguali, disoccupati, non abbiamo mai avuto il piacere di vedere un politico che veramente si è impegnato per il disoccupato, vanno tutti uguali, quindi noi abbiamo perso le fiducia, la fiducia l'abbiamo persa nell'istituzione comunale, l'abbiamo persa, noi stiamo combattendo questa lotta, non vi daremo pace né a voi né negli altri, non avranno pace perché noi ci saremo sempre con il fiato sul coso, qualsiasi parte di fare un comizio o qualche cosa noi saremo là, perché nel momento in cui chi è e vincerà le elezioni che andranno sul comune devono avere il problema, deve essere un'ossessione, l'ossessione dei soffati di Casole, deve essere imprimita dei progetti di Casole che devono accadere su Casole, noi dobbiamo essere l'ossessione dei politici, perfino quando vanno nel cesso, che è lei nel cesso, è un punto di rilassamento, devono avere la nostra foto sul cesso così che dobbiamo essere un'ossessione, nemmeno a cagare, li dobbiamo far cagare, non ce la faccio? Ecco io state le faccio vedere, vedete le facce degli soffati che stanno qua, ognuno di loro ha un problema, si sa il lavoro porta tanti problemi, la prima cosa porta il lavoro? Cioè non lavorando praticamente ti senti escluso dalla società, ci sono i problemi perché il lavoro porta lo studio, la cultura, tutte queste belle cose, però noi qua a Casole abbiamo combattuto fino a un certo punto, in un certo modo non ce l'abbiamo fatto più, adesso stiamo iniziando a combattere in un altro modo, con la stessa arma dei politici, noi non vogliamo fare nessuno sconto volgare o fisico o verbale, però siamo molti incassati, siamo molti arrabbiati, non ce la facciamo più, io vi dico cari politici se ci sono qui dentro o c'è qualcuno che deve andare all'elezione o è candidato, quando sarete lì sopra, la prima causa che dovete mettere in alto deve essere il nostro problema, la disoccupazione, perché altrimenti ci sarà guerra, ma guerra però sul vero senso della parola, perché qua stiamo diventando che un altro po' ci dobbiamo mangiare uno con l'altro e non vogliamo arrivare a queste cose perché abbiamo le famiglie a casa, vedete adesso con me c'è anche mia figlia piccolina, mia figlia mi ha fatto una domanda, babbo perché fai questo? Che gli posso dire a mia figlia? Che gli devo dire? Abbiamo uno Stato che non c'è, abbiamo una tazza di ricerca politica che non serve, cosa ci dobbiamo dire? Io voglio una risposta, anzi noi vogliamo una risposta e questa risposta la vogliamo subito, senza né se né senza mai, senza promessi in vano, non devono essere promessi che fanno al vero, perché lo sappiamo troppo bene, gli assessori, i consiglieri comunali non stanno all'attezza di fare un cavolo, quindi noi stasera chiediamo che coloro che andranno sul comune dopo vincere le elezioni il primo problema deve essere l'occupazione.